Qual è la malnutrizione proteico-calorica? La malnutrizione proteico-calorica è caratterizzata da un'assunzione inadeguata di proteine. Il risultato di questa condizione si traduce, tra le altre cose, in una perdita di peso e in un pericoloso declino dell'immunità. Nota anche semplicemente come malnutrizione, la malnutrizione proteico-calorica si trova più comunemente nei paesi del Terzo Mondo in cui le diete consistono principalmente di cibi e verdure amidacei, ma dove non ci sono abbastanza alimenti a base animale o i loro sottoprodotti. La malnutrizione proteico-calorica è nota per presentarsi in due forme distinte, quashorkor e marasmus. Una persona affetta da malnutrizione proteico-calorica è probabile che abbia edema e dermatite, oltre a grave enemia e alopecia. Queste persone spesso sperimentano anche un malfunzionamento delle funzioni corporee chiave. Parti del corpo più gravemente colpite dalla malnutrizione includono il rene, il fegato, il sistema respiratorio, il sistema nervoso e il sistema cardiovascolare. Le persone con questa condizione sperimenteranno anche una marcata diminuzione della massa muscolare e una scarsa guarigione delle ferite, nonché una diminuzione dell'immunità contro una miriade di altre malattie e infezioni virali. Una forma di questa condizione è conosciuta come quashorkor. Questo tipo specifico di malnutrizione è comune nei luoghi in cui la siccità, la carestia, la guerra e altri eventi catastrofici interrompono o addirittura impediscono un approvvigionamento alimentare sano ed equilibrato. Oltre a un approvvigionamento alimentare compromesso, il quashorkor può anche essere il risultato di infezione e esposizione tossica. Il quashorkor si verifica nei paesi sviluppati, anche se in questi paesi deriva più comunemente da un individuo abusato che viene deliberatamente affamato. I sintomi del quashorkor si trovano anche in pazienti anoressici che si sono volontariamente fatti morire di fame. Questa condizione può talvolta verificarsi anche in contesti ospedalieri, in particolare nei casi di individui estremamente malati, come quelli colpiti dal cancro. La malnutrizione proteico-calorica può anche interessare gli anziani, le persone che hanno subito un intervento chirurgico di bipas gastrico e neonati con diete limitate. Il marasma, un secondo tipo di malnutrizione proteico-calorica, si trova di solito nei bambini. Questa forma si verifica principalmente quando i bambini vengono trasferiti dall'allattamento al seno a cibi solidi che possono essere ricchi di calorie, ma che non forniscono ancora abbastanza proteine. La tubercolosi, il virus dell'immunodeficienza umana e le infezioni gastrointestinali possono anche contribuire a questo tipo di malnutrizione proteico-calorica. La malnutrizione proteico-calorica può essere una condizione fatale se non correttamente rilevata e trattata nelle sue prime fasi. Più a lungo non viene trattato, infatti, maggiore è l'entità dei gravi danni a carico di organi e tessuti anche nei casi in cui la malnutrizione può essere invertita. Quando non viene trattato, tuttavia, una persona malnutrita di proteine e calorie subirà uno shock prima di entrare in coma e alla fine morire.